buon pomeriggio siamo ancora la roma e fideliti oggi è domenica 28 novembre e la seconda giornata della kermesse romana che torna dopo due anni di assenza e sono in compagnia di fulvio cecconi di gruppo garman che è un punto vendita a roma in quartiere prati in via boezio che spesso teatro di eventi organizzati in collaborazione con avv magazine ciao fulvio che sei presente una saletta che sta rischio tendo un discreto successo che ricordiamo una sala come l'anno scorso una sala audio video multicanale però quest'anno hai due novità estremamente interessanti assolutamente sì la sala è la stessa di due anni fa presentiamo quest'anno il videoproiettore epson laser ls 11000 e poi l'altra novità il l'impianto audio ai fidelity che stai riscuotendo un grande successo ben tarato anche dalle dalle tue sapienti mani e niente la gente soddisfatta purtroppo motivi covid portano la capienza della sala a sole 89 persone cerchiamo di attenerci rigorosamente a questa cosa però è anche modo per sentire magari meglio delle 40 persone che infilavamo l'altro anno come tu ben sai il video è visto a live fidelity come una mosca bianca una cosa un po particolare però sempre più attira gente che è curiosa di vedere anche video musicali o l'ascolto in multicanale del dei concerti o di solisti quindi alla fine sta andando molto molto bene molto bene i commenti appunto i feedback sono estremamente positivi ma non solo per quanto mi riguarda i feedback del della qualità immagine del videoproiettore che ho curato personalmente la calibrazione però c'è anche già luca di felice con le sue dimostrazioni e con la sua selezione di clip molto intelligente c'è anche francesco aliotta che presenta delle sessioni utilizzando il processore video ma di via rendi e poi c'è un sistema audio che è un'altra sorpresa nella sorpresa perché un'anteprima soprattutto i subwoofer in questo caso è un sistema definitive technology nato per il multicanale con i moduli atmos è un'energia interessante diverte beh la sala si presta molto bene perché essendo piccolina parliamo di cinque metri e mezzo per cinque dieci circa effettivamente il tetto non molto alto suona anche senza nessun tipo di correzione acustica in termini fisici quindi di panni giuste le persone che esatto esatto però non ci sono non ci sono non ci sono riverberi strani vabbè c'è stata anche un'attenta taratura del sistema assolutamente sì però ti garantisco che anche nel momento in cui lo abbiamo acceso non c'erano cose particolari quindi devo dire abbiamo rinunciato ai 90 metri quadrati degli anni precedenti ma suona assolutamente correttamente un'ultima domanda fulvio come un po farci un bilancio di questa prima giornata in mezza del roma i fideliti beh non vedo distinzioni fra sabato e la domenica l'affluenza mi è sembrata assolutamente costante uguale e non mi aspettavo tanta gente pensavo onestamente fra il maltempo e il resto che sappiamo di di non avere questa affluenza invece devo dire sono molto molto contento in generale per il movimento non tanto per garman e la nostra piccola saletta da otto persone però in generale c'è molta gente interessata e vogliosa finalmente di certo riaffacciarsi ai propri hobby e alle proprie passioni ricordiamo comunque voi siete in prati con un punto vendita in via boezio due sale d'ascolto slash on cinema perché video proiezione display in entrambe le sale sarà presto anzi prestissimo teatro di un evento insieme siamo in attesa dei proiettori gvc che dovremmo presentare da garman prima possibile assolutamente quando decideranno finalmente di renderli disponibili sul mercato si parlava di fine novembre ha eselittato già dicembre e quindi magari a natale o il 31 forse riusciremo il 25 se arrivano saremo aperti e dobbiamo fare grazie ancora il mio a presto franco grazie a voi ciao ciao grazie grazie